Ciao a tutti, sono Umberto Celestini, CASE, Mini e MediEscabedos Product Manager e benvenuti nel cammino del primo modello della nostra nuova range di MediEscabedos, CASE E-Series. CASE E-Series CX-75E è un escavato 7,5 tonne di 2-piece. In un stile modente e funzionale, si tratta le stesse belle belle funzioni del suo figlio più grande, CX-65D, parte della D-Series Max, e lo fa con una macchina pesante, più tonne, un'ottima intercaria, più 120 mm, e un'arco più lungo, più 200 mm, di questo modo, proporzionando più stabilità, capacità più alta, più lunghezza e lunghezza, circa 5% più, per più produttività e performance. Questo è un modello di 2-piece boom. La strategia di design per adottare questo tipo di boom si tratta dalla D-Series Max, dove siamo unici nel mercato per offrire il 2-piece boom in 4 modelli. Sì, le vantaggi in performance e produttività versus the standard mono boom offered in the sister model CX-70E are 24% higher dumping height, almost 1,1 m more, 7% longer horizontal reach, almost 500 mm more, 50 mm more digging depth, along with the ability to dig much closer to the machine, thanks to the 2 hinge points geometry.